Nella caccia alle risorse per fare a meno del gas russo risorge il progetto del rigassificatore di Porto Empedocle in provincia di Agrigento che dovrebbe servire a risolvere la crisi del gas in Sicilia. Presentato 18 anni fa, da 7 anni era stato messo in naftalina dai vari governi dopo aver ottenuto i vari permessi e affrontato l'opposizione ai ricorsi dei comitati locali preoccupati per la vocazione turistica della zona. Ora l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace ha annunciato la ripresa del progetto con un investimento di circa un miliardo. L'obiettivo è attrezzare la Sicilia a ricevere navi gasiere e dare flessibilità di fornitura di gas. Ha dichiarato Starace al convegno della Fondazione Merita il ruolo del mezzogiorno per la sicurezza energetica italiana ed europea. In un colloquio con il Financial Times l'amministratore delegato di Enel aveva rimarcato l'importanza per l'Unione Europea di fare di più per smarcarsi dalla dipendenza dell'import di gas e liberarsi dai collegamenti fisici con altri paesi puntando proprio sui impianti di rigassificazione. È il fronte su cui ha lavoro anche SNAM che ha avuto mandato dal governo per negoziare l'acquisto di un rigassificatore galleggiante e noleggiarne un altro. Per la prima trattativa, secondo Notizie Stampa, la società sarebbe già in fase di esclusiva e avrebbe avviato un sopralluogo a Piombino in provincia di Livorno come possibile localizzazione dell'investimento. I nuovi impianti affiancheranno i tre già attivi a Portovenere, Rovigo e Livorno che saranno portati a lavorare a pieno regime.